Millennia di sonno Mi hanno cullato ed ora ritorno a qualcosa è cambiato non scorgo segnale che annunci la vita eppure l'avverto ci son vibrazioni che cosa vedranno fra poco i miei occhi magari saranno dei corpi di pietra li sento arrivare magari saranno dei corpi di pietra mi sento arrivare mi sento arrivare ahhh 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 ahhh